Il giorno, cerchiato in rosso sul calendario di senatori e deputati di prima nomina, era il 15 di settembre. Superato senza intoppi quel giorno, tutti i parlamentari di prima elezione acquisiscono il diritto ad avere una pensione dal 65esimo anno d'età, il cosiddetto vitalizio. È una rivoluzione perché si tratta della prima schiera di politici che saranno assoggettati al meccanismo contributivo. Prima si poteva prendere il trattamento pensionistico anche semplicemente facendo pochi mesi di legislatura. Nel 2012 si è stabilita una cosa importante, cioè il trattamento pensionistico che peraltro è fatto dai contributi che pagano i parlamentari, si prende solo se la legislatura praticamente viene fatta quasi per intero. Ora bisogna guardare alle altre situazioni a cui mettere mano, spiega dalla Commissione Bilancio il senatore Santini. Resta il fatto di fare adesso l'altra riforma che manca, quella che riguarda i vitalizi precedenti, cioè la forma di gestione di questa... Ma questo riguarda il passato ed è stata approvata adesso alla Camera questa riforma e penso che venga approvata anche al Senato in tempo utile per andare in vigore anche per quelli del passato. Non mancano i casi paradossali, quelli di chi è entrato per surroga e vede perso ogni contributo versato. Nel mio caso per esempio questi contributi vengono persi completamente per cui io devo ripagarli per avere quel minimo di pensione e quando poi andrò in pensione che l'Ips mi darà. Patienza allarga le braccia di no secco, io dico solo che i deputati devono essere trattati e andare in pensione proprio come gli altri cittadini. Io il vitalizio sono uno dei pochi deputati che non lo prenderò e considero il fatto di non prenderlo un fatto normale.